Benvenuto in Siua, la scuola da me fondata nel 1997 e che si occupa di valorizzare la nostra relazione con i nostri amici animali attraverso la formazione professionale. Ma allora cosa facciamo in Siua? Beh, innanzitutto il nostro lavoro è quello di dare la migliore formazione professionale a chi vuole appunto lavorare con gli animali. I nostri campi di interesse sono l'area dell'educazione cinofila, dell'istituzione cinofila, della pet therapy, della consulenza della relazione felina. Andiamo a vedere come si svolge nel dettaglio questo corso. L'educatore cinofilo opera per dare al cane le migliori possibilità per inserirsi in modo soddisfacente nella società, per valorizzare le sue propensioni, le sue doti particolari e trasformarle in competenze e occasioni di arricchimento per se stesso e il suo proprietario. Come educatore cinofilo aiuterai il cane a crescere in modo completo ed equilibrato e il proprietario a conoscerlo e a capirlo. L'educatore cinofilo può lavorare sia come consulente relazionale nel privato che come educatore nei canili, nei rifugi e negli allevamenti. Il corso è strutturato in due step conseguenziali chiamati livelli, il primo diviso in quattro incontri, il secondo di otto, della durata di un weekend ciascuno. Per tutto il percorso le persone saranno affiancate da figure altamente qualificate per la formazione, ovvero i tutor. Attraverso ore di laboratori pratici ti supporteranno nell'apprendimento e nell'applicazione delle attività. Tra il primo e secondo step è previsto un incontro per comprendere lo stato di avanzamento dell'apprendimento, per valutare insieme ai tutor quali siano gli argomenti e le attività da approfondire per migliorarsi. Tutti i docenti sono qualificati e accreditati a livello nazionale, responsabili di innovativi progetti dedicati al cane, medici veterinari e psicologi. SIGUA non è solo formazione ma è anche continuo supporto per i propri educatori. Dopo l'esame finale, al termine del secondo livello del corso, una volta diplomato, avrai accesso a tutte le possibilità post diploma. Tirocinio in canile, nei diversi canili dislocati su tutto il territorio nazionale, che vantano la collaborazione con dei referenti della scuola. Tirocinio in consulenza, affiancando tutti i professionisti SIGUA che costantemente si rendono disponibili a supportare i nuovi educatori. Tutto il percorso consta di tantissime ore di attività pratica, circa un centinaio, lezioni frontali specialistiche, teoriche e di apprendimento. Come tutte le lezioni sulla comunicazione del cane, la sua anatomia, il gioco, i bisogni relazionali di cane proprietario, solo per citarne alcune. Per conoscere in maniera più approfondita il programma del corso, visita la sezione apposita del sito. Per informazioni più dettagliate o per l'iscrizione, potete mandare una mail a info-licos.education.